Noi ci siamo visti prima di Notaresco Avezzano, tre o quattro giorni prima, sapete tutti com'è finita. Infatti, questa è la seconda volta, facciamo un altro tentativo e vediamo. Sconfitta pesante, però anche una grande reazione, non era facile a distanza di una settimana. Sì, abbiamo fatto una buonissima prestazione, a noi ci contava testare anche la reazione dei ragazzi, io non avevo dubbi, contro un'ottima squadra, contro una squadra che si è affatto su, su un campo difficile, che era anche appesantito piccolo, però penso che abbia fatto la solita prestazione da Notaresco. Adesso la San Maurese in casa, squadra ostica? Sicuramente, un'altra partita tosta, come non lo sono tutte, qui alla fine del giorno e ritorno. La San Maurese è un'altra squadra che sta facendo molto bene, fa risultato da tante domeniche, che è una squadra che concede poco, però, ripeto, noi come sempre dovremmo cercare di fare il massimo, poi vediamo cosa saremo capaci di fare. State già facendo un miracolo, perché insomma la squadra di giovani gioca bene, anzi, secondo gli addetti ai lavori, è la squadra che gioca meglio insieme con la Sangiustese, che ha una bella organizzazione. Parliamo anche però del mercato, testè consegnato agli archivi, Liguori, grande opportunità ceduto alla Catania. Contento De Angelis? Quando un ragazzo parte e va in categorie superiori ci deve essere per forza soddisfazione, questo non vuol dire che siamo contenti dal punto di vista tecnico, sappiamo di perdere un giocatore importante, però è anche giusto che i ragazzi di questa categoria abbiano l'aspirazione e il sogno di salire. Non si è lamentato Mirko? No, Mirko è un uomo di calcio, perciò è normale che siamo qua per questo, è normale che uno vorrebbe tenere tutti sempre fino alla fine, però il calcio è così, soprattutto sui giovani, quando c'è una possibilità, un'opportunità è giusto dargliela. Mirko Codini è stato calciatore come sei stato tu, quindi è chiaro che quando si vede un ragazzo spiccare il volo, perché può essere davvero il trampolino di lancio, tutto questo è motivo d'orgoglio. Ma sicuramente, questo è un augurio che facciamo a Michael, che va in una piazza importante, è una piazza difficile, però ha tutto il tempo, i mezzi per cercare di far bene e glielo auguro con tutto il cuore. Però se l'avessero lasciato per altri 3-4 mesi qui... Eramo contenti, anche perché noi ci teniamo a far bene fino alla fine, è dura perché, come ho detto la settimana scorsa, è un campionato difficile dove sono squadre attrezzate, noi, come dicevi tu, siamo una squadra molto giovane, la San Giustese ha quel pizzico di giocatori di esperienza in più, di giocatori fatti, noi cose invece non li abbiamo, ma questo non è in alibi, noi giochiamo sul fatto di avere l'entusiasmo e la voglia di arrivare. Bisogna completare l'opera, ci sono tutti i presupposti, mi pare quei... Questa è l'augurio, però sappiamo che è un campionato di ritorno difficilissimo, però abbiamo sempre dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, ma questo è un campionato che si può vincere e si può perdere con tutti, ma gli episodi ne fanno una differenza, noi speriamo che da qui alla fine gli episodi faremo in modo che siano dalla nostra parte. Tre partite in otto giorni, si chiuderà questo trittico con la vicecapolista Mateli? Sì, ci aspetta prima del Mateli che ci riserne, è un'altra partita difficile fuori casa perché loro giocano, si devono tirar fuori dalla zona play-out, perciò ogni partita ha le sue insidie, noi adesso la cosa più importante è pensare a sabato, poi quella di sabato ci darà la spinta magari se va bene per fare mercoledì e viceversa. Il massimo sette punti in tre partite, tanta roba. È da bene che non vogliamo fare, noi già se riusciamo a fare punti domenica, poi ripeto, io dico sempre che l'autostima e la convinzione vengono dalle vittorie, io mi auguro che venga sabato, così ci permetterà di affrontare la prossima dopo in maniera diversa. Grazie Stefano, e speriamo di portare bene questa volta. Lo spero.